Sì, ho chiamato l'uomo a cooperare alla sua creazione, sia con tutti voi che con il tuo spirito. Con le proprie mani gli attrezzo nell'umile officina di Nazareth, così gli torse l'antica maledizione e conseguenze del peccato, e trasformò la fatica umana in ponte di benedizione. Quando infatti il lavoratore si applica le cose materiali e temporali, facendo il quotidiano impegno a un offerto al creatore, al curifico, al sentore dell'esercizio della carità, va incontro ai fratelli più poveri e costruisce la civiltà dell'amore. Rivolgiamo dunque la preghiera a Dio nel Libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine, l'immagine di Dio lo creò, maschie femmine le creò. Dio li benedisse e disse loro, salate per conto e moltiplicatevi, e dite la terra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.